Ora ci concentriamo su un tema che riguarda una dimensione molto importante della salute di tante persone Parliamo di assistenza domiciliare destinata appunto a varie categorie In collegamento dalla sua abitazione a Roma il signor Blerim Oia Buongiorno, benvenuto a Uno Mattino Estate, grazie particolarmente per la sua presenza Buongiorno Buongiorno a tutti Che riceve l'assistenza domiciliare, proprio il signor Blerim E vicino a lui la dottoressa Simonetta Spera, caposala dell'ASL Roma 1 Buongiorno anche a lei signora Buongiorno Signora Oia, grazie per aver accolto le nostre telecamere Qui in studio poi incontreremo il dottor Giuseppe Quintavalle, commissario straordinario dell'ASL Roma 1 E la dottoressa Valeria Fava, in rappresentanza del Tribunale dei diritti del malato Signor Blerim, vengo subito da lei e la ringrazio ancora per la sua testimonianza Torniamo a due anni fa, lei si trovava in famiglia e con la famiglia in vacanza in Grecia Una mattina purtroppo che cosa è successo? Allora, buongiorno a tutti Ero in Grecia con mia moglie e mio figlio all'isola di Paros E lì mi è successo, mentre mi tuffavo mi è venuto un infarto con un negamento Mio figlio mi ha trascinato fuori dal mare e mi ha salvato la vita Dopodiché non mi ricordo più niente Mi sono svegliato dopo 15 giorni di coma Beh, è stato un percorso molto difficile e molto doloroso Senta, signor Blerim Dopo queste lunghe cure che lei ha ricevuto in istituto A un certo punto poi si è avviata l'assistenza domiciliare con l'ASL Roma 1 E poi è stato operato al Rizzoli di Bologna Noi, nonostante la fatica e la difficoltà, siamo felici di vederla bene Anche se il percorso è molto travagliato Però nessuno più di lei ci può raccontare com'è oggi la sua situazione Dopo l'intervento di 11 novembre a Rizzoli Ringrazio il professor Cesaro Paldini con il suo staff Vedo miglioramenti giorno per giorno dopo l'intervento Grazie anche ai professionisti dell'ASL Roma 1 Infatti questo spazio lo vogliamo dedicare proprio a lei E a tutte le persone che vivono questa esperienza E hanno bisogno di questo tipo di assistenza Allora ci può dire che cosa ha significato con lei Da quando è iniziato questo triste momento della sua vita Non tanto il ricovero in struttura che è stato assolutamente importante Ma a casa, lei come si sente accolto, protetto in questa sua situazione? Grazie a mia moglie e mio figlio che mi sopportano giorno per giorno E le ringrazio con tutto il cuore anche i genitori di mia moglie Il fratello e tutte le persone che mi stanno vicino E a proposito delle persone che le sono vicino Accanto a lei c'è la dottoressa Simonetta Spera Che coordina l'assistenza appunto domiciliare Chi sono i professionisti che si alternano in questo caso specifico Nella casa del signor Blairim? Buongiorno Innanzitutto per poter decidere quali sono i professionisti da impiegare Nell'assistenza ci vuole una valutazione a domicilio Per vedere i bisogni del paziente Nel caso di Blairim abbiamo impiegato Nella giornata, 7 giorni su 7 Circa 5-6 professionisti Che sono infermiere per le cure infermieristiche Il fisioterapista per la riabilitazione E il mantenimento della muscolatura di Blairim Un assistente sociosanitario per le cure giornaliere Dei medici specialisti come il cardiologo, l'opneumologo, l'urologo Il dermatologo e l'internista Abbiamo il fisiatra che lo segue E in questa situazione una psicologa segue la famiglia Visto la difficoltà nell'affrontare questo loro percorso Che si è presentato nella loro strada E poi ci sono io che controllo Che tutto funzioni nella maniera giusta per Blairim Si occupa appunto del coordinamento Un coordinamento non facile da realizzare Negli effetti pratici E comunque abbastanza complesso da gestire Quindi intanto complimenti per il vostro lavoro E per il vostro servizio Perché in questo caso non si può mai prescindere Dal senso proprio del servizio Della prossimità, della vicinanza a queste persone Torno qui in studio dal dottor Quintavalle Che è il commissario straordinario dell'Asla Roma 1 Ancora benvenuto e ben trovato Seguire i pazienti come il signore che abbiamo in collegamento Un impegno molto importante per voi Mezzi, personale E poi ci sono tante altre categorie di pazienti Allora diciamo innanzitutto grazie alla dottoressa Spera E al nostro paziente che vedo sta molto bene Quindi mi auguro per lui un miglioramento continuo E questo servizio si avvale di un'unità valutativa multidimensionale Che apre un PAI, un piano assistenziale che è individuale Quindi ogni persona avrà i suoi professionisti Che in questo caso sono tanti A seconda naturalmente delle patologie Le categorie che abbiamo sono fortunatamente Per dato minore quelle più gravi Quindi tra chiostomizzati, chi ha la ventilazione meccanica Chi deve fare anche un'alimentazione diciamo non diretta Poi la fortuna E diciamo la fortuna Noi stiamo aggredendo adesso invece tutta quella fascia di over 80 Che stanno bene, hanno piccole patologie Ma che vanno controllati Perché potrebbero virare in una situazione di gravità Miei genitori per esempio Quindi noi stiamo in questo caso L'ASD Roma 1 accoglie e assiste 21.000 persone In questo momento Riusciamo ad empiere anche a delle tempistiche importanti E devo dire che stiamo lavorando in omogenizzazione nel territorio regionale Quindi il nostro compito è quello di intervenire immediatamente Il cittadino cosa deve sapere però? Che qualora ha un bisogno Deve recarsi dal suo medico di medicina generale Il quale naturalmente apre il PAI Attraverso mezzi diretti Quindi contattando noi Come la dottoressa Gullino Nel caso in specie del distretto Che saluto Altrimenti può collegarsi ai famosi PUA I punti unici di accesso Il PNRR rappresenta un'ulteriore evoluzione Perché fra poco avremo le centrali operative territoriali Che già esistono E che poi naturalmente se ne parlerà E se ne affronterà ancora Dottoressa Fava Voi del Tribunale dei diritti del malato Come vi coordinate? Cioè come vi inserite in questo ambito di assistenza domiciliare? Allora Il tema dell'assistenza domiciliare è un tema che Noi trattiamo tantissimo Perché il bisogno, come diceva il professor Quintavalle È davvero molto ampio Soprattutto perché gli anziani sono sempre di più Siamo felici di averne sempre di più Perché l'aspettativa di vita si è alzata Però le grandicità sono aumentate E quindi i bisogni assistenziali sono molti Quello che noi facciamo molto quotidianamente È proprio fornire informazioni rispetto all'esistenza di questi servizi Fare orientamento Indicare ecco che il punto di riferimento Innanzitutto è il medico di medicina generale E anche a volte ovviamente intervenire laddove ci sono delle difficoltà Nell'attivare questi servizi Noi abbiamo una rete di centri di tutela sul territorio In ogni regione esistono diversi centri di tutela sul territorio A cui ci si può rivolgere Sia per chiedere informazioni Ma anche proprio per risolvere piccoli problemi Dunque il dottor Quintavalle vi ha anticipato già molti argomenti Però approfondiamo ancora perché ci piace fornirvi proprio sempre Tutte le informazioni Cosa si deve fare per avere l'assistenza domiciliare Ce lo spiega in questo RVM la nostra inviata Anna Battipaglia Siamo venuti alla Casa della Salute Nuovo Regina Margherita Per capire i vari step da fare per ottenere l'assistenza domiciliare L'iter principale è rivolgersi al proprio medico di medicina generale Che è il responsabile della presa in carico dei pazienti Sarà lui a stabilire qual è il bisogno esatto di questo paziente Noi forniamo qualunque tipo di assistenza domiciliare Perché è una priorità del PNRR e anche della Regione Lazio La casa come primo luogo di cura Il luogo in cui i pazienti è preferibile che vengano curati Soprattutto se anziani è impossibilitati a deambulare O comunque a recarsi fuori dal proprio domicilio Una volta che il medico ha stabilito quali sono le priorità I bisogni principali di questo paziente Compilerà un modulo che è scaricabile dal sito dell'azienda Compilando questo modulo potrà inviarlo al distretto Immediatamente si attiverà un'unità valutativa Che si recherà a domicilio del paziente Proprio per stabilire il numero di prestazioni E la tipologia delle prestazioni di cui il paziente ha bisogno Il piano assistenziale che verrà compilato a cura dell'unità valutativa Sarà condiviso sia con il caregiver E quindi con il paziente sostanzialmente E con il medico di medicina generale Quanto tempo passa da quando si presenta la domanda A quando viene erogata l'assistenza domiciliare? Entro 48-72 ore c'è l'unità valutativa e l'inizio dell'assistenza È brevissimo il tempo Proprio per motivi burocratici può passare al massimo una settimana Blerim, mi senti ancora? Sì, sì, ti sento Anche se non ci conosciamo voglio esprimerti da parte mia Da parte di tutti noi la nostra vicinanza Il nostro incoraggiamento Vai avanti così anche a tua moglie Cate Al figlio Matteo A tutti gli amici dell'Asla Roma 1 Bravissimi Avanti così, coraggio Condividono le giornate insieme a te Un abbraccio da tutti quanti noi E ti lascio dire un ultimo tuo pensiero Quello che ti suggerisce il cuore Io spero giorno per giorno che ce la farò Camminare con le mie gambe Ce la sto mettendo tutta Dai, almeno poi recupererei quella vacanza Grazie alla mia fede Bellissimo questo Certo, è una grande forza, un grande sostegno Così poi un giorno recupererei quella vacanza Che non è andata proprio molto bene Va bene? Grazie mille Grazie mille Un abbraccio Un abbraccio da tutti noi Grazie Grazie mille Grazie mille Grazie mille